In questo caso non solo lo spaccio di droga ma la cessione di una quantità illegale di metadone che fece cadere in coma il consumatore. Un giovane accusato di essere il pusher Tiziano Cicciarella, 28 anni di Modica, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare. Il tragico episodio dal quale sono scaturite le indagini risale a fine gennaio, quando un giovane di Modica, assuntore di stupefacenti, dopo aver incontrato il fornitore aveva acquistato da lui una boccetta di metadone per pochi euro. Il giovane, non essendo abituato ad assumere quella tipologia di droga, era caduto in coma ed era stato ricoverato per diverse settimane in terapia intensiva. I carabinieri cercarono immediatamente di identificare chi avesse ceduto la sostanza stupefacente, intanto con l'acquisizione della testimonianza del giovane, nonché dei sanitari che lo avevano in cura, per giungere alla comprensione del nesso di causalità tra l'assunzione della droga e le lesioni gravi e lo stato di coma in cui il giovane era piombato. Inoltre i militari dell'arma, attraverso un'attività di osservazione e ricerca di sistemi di videosorveglianza, hanno ricostruito l'episodio della cessione della boccetta di metadone ed hanno identificato il pusher come soggetto già arrestato per cessione di droga. Quindi un rapporto alla procura dove il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto dal GIP l'emissione di ordinanza di custodia cautelare. Il giudice ha sottolineato nell'emettere l'ordinanza la gravità del fatto, nonché il grave pericolo per l'incolumità del soggetto acquirente, inoltre ha riconosciuto la pericolosità sociale dell'arrestato legata ai suoi diversi precedenti penali. Al termine delle operazioni i carabinieri hanno arrestato Tiziano Cicciarella, 28 anni, Modicano, con numerosi precedenti per vari reati e lo hanno associato agli arresti domiciliari. Il giovane che era caduto in coma fortunatamente si è ripreso e non ha avuto gravissime conseguenze dall'episodio.